buon di buona gente sono luigi in arte lusio e benvenuti a questo nuovo video stavolta come potete vedere da questo strumento che magari i miei conterranei conosceranno altri conosceranno un po meno è una tamorra perché una tamorra semplice ragazzi perché il libro di cui voglio parlare oggi è qualcosa collegato alla mia terra non a napoli però siamo sempre in territorio campano e la tamorra perché perché la tamorra strumento di percussione fa riferimento al tremito della terra alla terra che si spacca e fa uscire fuori il fuoco che tiene dentro c'è una vecchia canzone un canto popolare dalle mie parti che fa più o meno beh ragazzi ve l'ho fatto un po' così anche perché purtroppo sono poco bravo a suonare ho poco senso del ritmo e sono anche stonato quindi vi chiedo perdono per avervi rovinato l'udito con questo accenno comunque tutta questa introduzione musicale canora apotropaica tradizionalista piena di storia della cultura napoletana per introdurre cosa un romanzo su un vulcano a core attivo il vesuvio su un'eruzione famosissima quella del 79 dopo cristo su una città sommersa pompei scritta da un inglese paradossale sì ragazzi e quindi cosa si nasconde dietro la tamorra ovviamente un libro e qual è questo libro gli ultimi giorni di pompei di edward bower linton poso un attimo la tamorra ecco fatto tranquilli non suonerò più per il momento sono conto di non suonare di non cantare mai più davanti a voi vi risparmio questo questo strazio ok ragazzi quindi gli ultimi giorni di pompei un classico della letteratura del romanzo storico è uno di quei romanzi questi che hanno proprio dettato un po le regole nel romanzo storico scritto nel 1832 più o meno sì 1832 o giù di lì assegnato un punto di svolta nel romanzo storico il romanzo storico nato con walter scott che però si dedicava a una visione del medioevo molto romanticizzata con bower linton invece ci spostiamo per la prima per la prima volta nel mondo antico nel mondo della latinità della magna grecia e con questo si apre il genere peplum un genere che avrà tanto successo nei romanzi nella letteratura prima basti pensare a famosi romanzi tipo quovadis benur io claudio e quant'altri e poi successivamente anche dal cinema il cinema che del genere in peplum ha fatto proprio un must degli anni dalle sue origini fin quasi agli anni cinquanta dove sono raggiunti un po tra gli anni cinquanta e sessanta i picchi massimi di questo cinema e paradossalmente proprio gli ultimi giorni di pompei è stato un po una fonte primaria di informazioni e di tematiche di tutto questo genere sia per quanto riguarda la letteratura che per quanto riguarda il cinema facciamo un piccolo accenno alla trama che ovviamente come si capisce già dal titolo si concentra sulla famosa eruzione del 79 dopo cristo che distrusse pompei e anche ercolano o castella maristabia e o plontis la storia si concentra su una tipica vicenda dal romanzo ovvero un intreccio amoroso il protagonista maschile è glauco un giovane atenese residente a pompei collocato ovviamente nella in una casa famosissima per chi bazzica pompeio agli scavi e chi invece ci è andato comunque o comunque chi è esperto dei luoghi di pompei degli scavi già lo saprà vive in quella che oggi viene chiamata la casa del poeta tragico il fatto l'autore si è divertito a collocare i suoi personaggi in quelli che erano punti appena scoperti degli scavi quindi il giovane protagonista è glauco un giovane atenese che si innamora di una sua conterranea un'altra greca una ragazza greca di nome ione quest'ultima però in quest'ultima assieme al fratello minore apecide vive sotto la tutela di arbace un sacerdote egiziano dedito al culto della dea iside che al tempo che in quell'epoca aveva molto molta presa sul su sulle persone come anche molti altri culti che parlavano di una possibile vita dopo la morte come anche il culto del dio mitra e anche il nascente cristianesimo ebbene questi due giovani ione e apecide sono me sono posti sotto la tutela di arbace l'egiziano un uomo infido avido di potere un convinto di essere un discendente diretto dei faraoni dell'antico egitto e che soprattutto è desidera possedere ione e non sopporta l'idea che ione ami glauco e sia da quest'ultimo ricambiata e in questo intrigo amoroso già molto già abbastanza intricato di per sé si va a collocare un altro personaggio una la coprotagonista forse quella che si potrebbe definire forse la protagonista morale di questo romanzo ovvero un nidia una piccola venditrice di fiori cieca che fa da schiava a glauco e poi a ione ed è innamorata di glauco disperatamente inutilmente innamorata perché glauco ha nel cuore solo ione e lei quindi si ritrova ad essere testimone e compartecipe di questa storia d'amore che vede nascere sotto i suoi occhi privi di luce e in mezzo a tutti a questa storia si delineano varie altre vicende di carattere sociale religioso culturale con il culto della dea iside il culto dei cristiani il mondo dei gladiatori che si preparano a ritornare nell'arena dopo che a causa di una famosa ris che avvenne tra gli abitanti di pompei e gli abitanti di nocera ebbero l'interdizione da parte del venero puniti dal dall'imperatore romano con il blocco dei giochi nell'anfiteatro ebbene il mondo dei gladiatori quindi il mondo dei nobili e ovviamente un substrato del del folklore dell'epoca basti pensare a una figura che qui compare nel romanzo compare poco ma che è molto d'impatto perché che attinge appunto alla tradizione campana della che parte dalla magna grecia e arriva fino a il folklore napoletano di fino ai giorni nostri ovvero quello il personaggio della strega del vesuvio o la saga del vesuvio così viene chiamata questa figura di donna che può essere malevola e benefica che diciamo da la giunta finale con i suoi incantesimi a questa a questi intrecci amorosi che vedono coinvolti glauco ione arbace nidia giulia la figlia del nobile di omede e e tanti altri personaggi che si muovono in questa storia fino ovviamente a culminare nel nel giorno 24 agosto del 79 d.c. quando il vesuvio da lungo da tempo ritenuto una semplice una semplice montagna esplode dando fiato al fuoco che aveva dentro distruggendo così un intero po un'intera città e cambia ed entrando per sempre nella nella leggenda e bene ragazzi non vi voglio anticipare nulla anche perché comunque è un romanzo molto godibile è pieno di avvenimenti non ha punti morti il che è strano ragazzi perché in genere i romanzi ottocenteschi rischiano al giorno d'oggi di essere letti con con un po di pesantezza perché rischiano di risultare un po datati se non sono talmente classici da essere ritenuti dei capolavori moderni anche al giorno d'oggi questo invece si legge con molto piacere io ad esempio ho questa edizione della burra che è ormai fuori catalogo la presi quando ero un giovanissimo adolescente di 13 14 anni dovevo avere non mi ricordo con esattezza insomma stiamo parlando del secolo passato questa vecchia edizione della burra che magari qualcuno ricorderà anche mi piacevano particolarmente perché avevano questa particolarità le copertine avevano un'immagine e un estratto dal romanzo che si collegava all'immagine qui ad esempio è riportato appunto come in questa immagine che rappresenta un quadro con la distruzione di pompeia d'opera del vesuvio c'è un estratto che descrive la distruzione di pompeia d'opera del vesuvio bene ne ho tanti altri romanzi di questa edizione dei super bur che mi piacevano tantissimo mi dispiace che oggi si possano trovare soltanto sulle bancarelle o siano quasi introvabili è un peccato perché sono bellissimi poi sono anche molto ben curati a livello della traduzione e anche della dell'impaginazione sono che mi hanno sempre ricordato molto le le vecchie macchine da scrivere questo però l'hanno conservato anche con le nuove edizioni per fortuna bene ragazzi libro si compone in cinque parti suddivisi in vari capitoli la storia non ha mai punti morti è tutto molto ben intrecciato la storia ha molto del foglietton d'epoca ovvero il romanzo tipico di intrattenimento che doveva per forza di cose spingerti a leggere un capitolo dopo l'altro perché non riuscivi a smettere perché la narrazione incalzava quei romanzi un po appuntati che venivano pubblicati sui vecchi giornali di cultura e di letteratura e quindi ogni volta si aspettava sempre l'uscita del nuovo capitolo e quant'altro certo risente un po dell'epoca in cui è stata scritta infatti in molti punti specialmente quelli dove vengono rappresentati i tipici banchetti dell'epoca con i nobili che si siedono vengono serviti ci sono i loro invitati che si suddividono nell'intellettuale nel nel tipico cortigiano antelitram che è presente unicamente per elogiare il padrone di casa per ottenere in cambio cibo e favori e quant'altro sono momenti che risentono forse un po troppo dell'epoca in cui è stato scritto infatti a tratti più che dei simposi dell'epoca romana del primo secolo dopo cristo mamma mia questi mettono a fare i lavori a quest'ora di sera comunque come stavo dicendo più che simposi dell'epoca mi davano quasi l'idea un po per i dialoghi impostati mi sembravano un po poi i ricevimenti dell'inghilterra di inizio ottocento davano un po' quell'impressione se uno ha letto altri romanzi inglesi dell'ottocento non può che dare questa impressione sono praticamente degli dei lord inglesi vestiti con tuniche e pepli poi i personaggi sono molto ben caratterizzati chi più chi meno certo i due persone quelli che devono essere un po i protagonisti della vicenda ovvero glauco e ione rientrano sono personaggi abbastanza piatti perché sono i tipici romanzi ottocenteschi del romanzo d'amore i due innamorati che si ritrovano ad affrontare varie vicende quindi sono personaggi di per sé con poco spessore poco con poca dimensione invece i personaggi che più non so se li sentite proprio il martellare fastidioso mentre invece i personaggi che più più sono caratterizzati e più attirano l'attenzione del del lettore e sui quali l'autore se si è appoggiato maggiormente appunto perché è consapevole del fatto che erano dei personaggi che avevano del gran potenziale sono i personaggi di arbace l'egiziano il cattivo che qui pur essendo comunque un cattivo a tutto tondo ha una sua psica una sua psicologia a quel fascino magliatore tipico dei cattivi che ti sanno catturare proprio perché hanno molta classe sono sottilmente astuti riescono a cavarsela quasi fino alla fine riescono ad uscire quasi sempre vincitori e anche il personaggio di nidia che a differenza degli altri personaggi che o sono solo buoni o sono solo cattivi sono è un personaggio che risulta grigio perché la vediamo come questa piccola mendicante di strada che vende fiori è cieca è molto buona di per sé però è innamorata disperatamente di un uomo che non la considera non la vede la vede come una semplice quasi come una sorellina la vede ebbene per questo amore lei arriva a commettere delle azioni che sono quasi cattive e commette delle azioni che rischiano di mettere in pericolo la vita di tante persone molte volte anche rischiano anche di distruggere la vita di altri ebbene questo nel suo essere un personaggio buono ma che comunque commette degli errori perché desidera essere felice anche a costo di pagare un prezzo alto per ottenere questa felicità la rende un personaggio molto più umano di tanti altri tutti gli altri personaggi di per sé invece rappresentano un po' quelli che sono un po' i personaggi standard un po' i personaggi tipici o sia del romanzo tradizionale un po' come i personaggi dei nobili come il nobile di Omede che è un tipico personaggio del ricco signorotto che possiamo trovare in tanti altri romanzi di sua figlia Giulia che è il tipico personaggio femminile antagonista e anche i personaggi del mondo dei gladiatori che ritroveremo poi successivamente in tanti altri romanzi speech quasi in tanti altri romanzi e film successivi del genere Peplum come vi ho già anticipato e c'è anche poi il personaggio di Apecide il fratello più giovane di Ione che già di per sé è un personaggio un po' più evoluto perché è un personaggio comunque che ha molti spettri interiori sembra quasi un personaggio che soffra di una sorta di disturbo nervoso come una sorta di depressione che persegue un percorso che lo porta ad arrivare a partire da un gradino basso fino a raggiungere una sorta di esaltazione quasi nel suo percorso spirituale che lo porterà dal culto della dea Iside fino al cristianesimo ebbene ragazzi non penso di potervi dire altro vi ho già detto tutto perché c'è tanto da dire in questo romanzo che è ricchissimo penso di non aver nemmeno detto di aver nemmeno articolato bene il discorso purtroppo come mio solito e vi chiedo scusa piccolo accenno di cultura popolare questo romanzo ebbe tanto successo che ne venne tratte ne venne tratto un'opera lirica ovvero Ione o gli ultimi giorni di Pompei e successivamente tantissimi film i film che ne sono stati tratti sono tantissimi vi citerò un po' quelli che secondo me sono un po' i meglio riusciti ad esempio c'è un film dell'epoca del muto del 1913 che si intitola appunto I ultimi giorni di Pompei di Mario Caserini e poi ci sono un film francese I ultimi giorni di Pompei di Marcel Lerbier e un film made in Italy di Sergio Leone I ultimi giorni di Pompei del 1959 poi negli anni 80 ne venne fatto anche uno sceneggiato in quattro puntate che però si distacca molto dal romanzo tiene sempre gli elementi base del romanzo però poi ricama molto, aggiunge molte altre storie e quant'altro però a suo modo è bello e si lascia vedere, è molto bello anche quello ovviamente vi lascerò tutti i link in descrizione come al solito se siete interessati a recuperarli o ad informarvi voi personalmente. Attualmente questo romanzo qua mi sembra è in cartaceo e fuori catalogo comunque di difficile reperibilità, penso che se volete trovarlo dovete andare a scavare un po' nelle bancarelle dei libri dell'usato però penso che in ebook sia possibile acquistarlo in ebook perché mi ricordo che quando uscì il film Pompei, quello recente con Kit Harrington che non ha nulla a che fare con questo romanzo sappiatelo, bene pubblicizzato di nuovo questo romanzo ed è adesso possibile acquistare l'ebook che ha in copertina l'immagine del film Pompei bene ragazzi il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto lasciatemi un like se così è stato, lasciatemi un commento se anche voi conoscete questo romanzo se l'avete letto, se non l'avete letto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto se conoscete le trasposizioni cinematografiche che ne sono state fatte iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video iscrivetevi anche alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video alla prossima e ciao!